Stile sexy, abito a righe bianche nere con collo basso, spacco laterale e spalline sottili. Rende il tuo sexy e alla moda. Materiali di alta qualità, cotone di alta qualità miscelato, cena morbida, traspirante e alla moda, garanzia di qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.